L'infezione di corpi, volti, arti, epidermidi, portamenti e atteggiamenti vede se stessa allo specchio e inorridisce. Non è così, cara? Certamente. La povera bambina si chiede perché devo continuare ad essere goffa, sgraziata, con un paio di taglie in più del normale e con tutte quelle disgustose eruzioni cutanee. In breve, Lana, la nostra Marilyn è stanca di essere un mostro. Dottor Rex, lei non ha capito. Come, scusi? Lei non è ansiosa. Non voglio sottopormi alla trasformazione. Che cosa? Neanch'io riesco a capire. Non aveva mai detto niente prima. È vero? Sì. Non sa dare nessuna ragione. Sì, sì. Adesso, Marilyn, vuoi provare a spiegarmi? Con parole tue. Non saprei. È che non voglio cambiare. Tu capisci ovviamente che la trasformazione è considerata una fase della crescita, ormai un segno di maturità. Cosa? Essere come tutti gli altri? Marilyn, permetti che io compia un piccolo esperimento su di te per i miei studi? Da questa parte, prego. Siediti, cara, per favore. E adesso, Marilyn, devi cercare di capire che la trasformazione è desiderabile non solo da un punto di vista estetico. L'esperienza ha dimostrato che svolge un ruolo molto importante anche nell'equilibrio psicologico. Stai seduta tranquilla, per favore. Facciamo in un momento. Ferma così. Ecco fatto. Sì. Lana, hai idea di cosa abbia innescato questi risentimenti? Non riesco ad immaginarlo. Non si è mai mostrata molto interessata. Ma non avrei mai pensato che... Vedo qui che suo marito è morto nell'incidente del Ganimede. Cinque anni fa. La trasformazione causò dei motivi di discussione tra voi due? Sì. Lui all'inizio era contrario, ma alla fine aveva scelto il 17 in suo numero. Ah, il 17. Marilyn, puoi venire qui adesso. Abbiamo quasi finito. Ecco, Marilyn, io credo che tu volessi molto bene a tuo padre. Sì. E sicuramente rispettavi le sue opinioni. Ti ha mai detto che per lui la trasformazione era sbagliata? No, non esattamente. E che cosa ti disse? Mi disse che la considerava tragica. Mio marito aveva idee piuttosto anticonformiste, dottore, ma erano solo parole. Aveva il più elevato quoziente di intelligenza di tutto il servizio spaziale. Sì, sì. Lana, questo caso per me è molto insolito. Credo che avrò bisogno di un altro po' di tempo per esaminarlo ulteriormente. Mi metterò in contatto con voi. Ha scoperto qualcosa? Come, cara? Ha scoperto qualcosa con il suo esame? Sì, certo.